In questo momento, tre minuti all'inizio, gentlemen. Please. Grazie. But didn't make it... We're having a video for the ladies and gentlemen of the ball. Inizio... Per il momento è una breve interruzione per l'assistenza. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Stefano Donagrandi, Enrico Fabris, Ippolito, San Fratello.